Se n'è andato così come aveva vissuto, pensando agli altri prima che a se stesso. Era in attesa di sottoporsi ad un intervento chirurgico disperato quando ha chiamato i suoi figli per riferire le sue ultime volontà, se l'operazione dovesse andare male, donate i miei organi. Ignazio del Curatolo, 62 anni di Barletta, non ce l'ha fatta, ma la sua vita non è terminata all'ospedale Bonomo di Andria, dove agli inizi di giugno era stato ricoverato per un ictus. Il suo cuore è stato subito trapiantato per regalare un futuro a chi pensava di non averne più uno. I suoi rini sono stati trasferiti a Bari, le corne alla banca degli occhi di Mestre e il fegato prelevato per un'urgenza nazionale. L'altruismo e il coraggio di Ignazio sono stati ricordati con una manifestazione sportiva al cartodromo Vebe Carta di Margherita di Savoia. Emozionati gli amici e i familiari che insieme all'associazione Piluti per un giorno hanno organizzato la competizione commemorativa. Targhe e trofei sono stati distribuiti a tutti i partecipanti nel ricordo di Ignazio e della sua generosità fuori dal comune. Io volevo ricordare Ignazio con una semplice frase che rispecchia il suo modo di vivere e come ha vissuto la vita e del gesto nobile che lui ha fatto. E volevo citare una frase tratta da un testo ebraico che viene anche menzionata nel film Schindler List, la lista di Schindler, che dice chi salva una vita ha salvato l'intero mondo. Grazie a Flavio Cheregin abbiamo organizzato questo momento di ricordo per l'amico Ignazio e siamo qui a sorridere insieme a lui. Le sue grandi passioni erano il canto e la musica con cui trasmetteva la sua gioia di vivere. Amava profondamente la vita e ha voluto che altri con la sua donazione potessero continuare ad averne una più serena. Per noi è un eroe, è stato un eroe fino all'ultimo perché ha dimostrato ovviamente di aver avuto un grande cuore per tutti, che ha condiviso con tutti, è stato l'amico di tutti, di tutti, fedele, grande, profondo, di principio, di valori e questi valori lui li ha portati avanti fino alla fine. Io dico non c'è mai una fine dove c'è l'amore, tant'è vero che il suo cuore batte ancora, ha permesso a tante persone di vivere ed è vivo per noi. Quindi noi porteremo avanti tutti i progetti che avevamo prima che accadesse quello che è accaduto e continueremo anche nel suo nome e in sua memoria a fare del bene lì dove c'è bisogno. Ignazio ha lasciato due figli orgogliosi del loro papà e del suo grande cuore che non smette di battere. Sapere che tanta gente voleva bene a nostro padre ricordarlo in questo modo è veramente una cosa che ci riempie il cuore, perciò ringraziamo tutti. Grazie. Grazie.